... Allora, rincorso di treni tutto il giorno oggi e non è finita qua eh, oggi dobbiamo correre presso i treni tutta la giornata, oggi si corre in presso i treni tutta la giornata. Unico trasporto Campania, c'è un po' il 46, ah 46, regge, regge, adesso puoi andare da un po'x, oh ghi, autore protocols, grazie, grazie. eh, 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 ah. Uniscibio, mamma, mi conservavamo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.